Gli Obama volontari alla mensa dei poveri di Washington per il Martin Luther King Day. Voglio ringraziare tutte le persone che sono qui per il grande lavoro che Fati ha detto Obama e volontari della Central Kitchen con i quali insieme alle figlie e dalla moglie ha preparato Borritos da distribuire a essenza tetto. Anche il vicepresidente Biden ed altri membri dell'amministrazione hanno partecipato ad attività di volontariato in occasione del Day of Service proclamato appunto in concomitanza con la festività per commemorare il leader della lotta per i diritti civili.